wayla ragazzi ciao a tutti qui è TheOfficialVideogames e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale allora ragazzi sto registrando questo video per il semplice fatto che voglio cercare di contribuire qualche cosa insieme allora questo video non doveva essere nemmeno registrato ma comunque sia ci provo ci provo per il semplice fatto che number one i video che vi sto caricando purtroppo non è che stanno andando bene per chi se lo stesse domandando ovviamente sono qui davanti a casa mia sto qui all'aperto mi scuso se sentite un po' di venticello che gira intorno all'audio della registrazione ma cercherò quantomeno ragazzi anche di fare il possibile detto questo bando alle ciance allora io come detto ragazzi sto vedendo che purtroppo i vari tipi di video che vi sto caricando non è che hanno veramente tanto interesse da parte vostra io voglio soltanto cercare di contribuire qualche cosa insieme a voi lo so che ci stanno altri youtubers che hanno aperto il loro canale molto molto prima di me e che quindi io diciamo che sono ancora alle primissime armi per il semplice fatto che ho chiuso il vecchio canale perché mi è successa una cosa che non mi va di dire qui in questo video ma comunque sia ho chiuso il canale per questo motivo qua ne ho aperto un secondo per vedere un attimino se la cosa cambia oppure no se mi vedete ogni tanto che faccio lo stupido o che faccio una cosa seria non perché ragazzi mi ci voglio far notare o perché c'è il cappellino perché c'è gli occhiali da sole o perché c'è la macchina figa e quelle quali no ragazzi non è così io faccio i vari tipi di video vlog o in macchina o fuori all'aperto insomma dove che mi trovo lo faccio non perché ragazzi mi voglio far notare da voi o perché voglio far vedere agli altri che io ho questo io ho quell'altro no non è così io cerco di fare quel che posso ora ragazzi voglio chiedere a voi qui sotto qui nei commenti possiamo fare un piccolo sondaggio in questo piccolo sondaggio potete votare con un con un vostro numero preferito a vostra scelta da 1 a 10 la domanda è questa io che ho aperto il canale a voi iscritti vi piace veramente il mio canale ecco questa qui è la mia primissima domanda votate qui sotto qui nei commenti con un voto da 1 a 10 se il canale vi piace seconda domanda a voi iscritti al canale sempre con un voto da 1 a 10 di vostra preferenza vi garbano i titoli che vi sto portando ogni giorno quindi votate qui sotto qui sì o no terza domanda sempre con un numero a vostra scelta sempre da 1 a 10 cercate di prendere in considerazione il video che vi ho portato quindi se voi considerate il video che vi ho portato l'ultimo ovvero quello lì sia del video vlog che anche quello lì in pratica del farming simulator 17 fatemi sapere qui sotto qui nei commenti se i due video vi garbano 4 sempre con il vostro numero a piacimento fatemi sapere qui sotto qui nei commenti con voto sì o voto no oppure un voto da 1 a 10 insomma quello che volete fatemi sapere se i video vlog vi garbano perché se vi garbano io cercherò quantomeno di portarli avanti se non vi garbano io non li porto più ora ragazzi voglio dire un'altra cosa veramente voi apprezzate il mio canale oppure no volete che continui con i vari titoli che ho in possesso perché perché comunque sia voglio cercare di portare a termine almeno una serie portando a termine una serie significa che devo stare dalla mattina alla sera a registrarvi video di quel determinato titolo quindi vi chiedo qui sotto qui nei commenti se volete contribuire al canale quindi lasciare like condividere il video e aiutare specialmente il canale in una cosa molto molto più grande rispetto a come sta andando adesso i vari video di video ragazzi se li vedete un attimino un po troppo leggermente sfocati in lontananza sappiate che numero uno non sono io che faccio uscire il video in quella maniera la numero due se andate su internet e cercate il perché youtube abbassa la qualità del video beh forse magari potete rendervi voi conto stessi del perché youtube fa sta cosa se qualcuno non lo sa ve lo dico io se voi andate su un qualsiasi tipo video di video su youtube e cliccate con il tasto destro sul video vi uscirà un menu a tendina se cliccate le specifiche dei nerd vi verrà mostrato il video ovvero la codifica di quel determinato video come è stato renderizzato i miei video li registro sia a 1920x1080 pixel sia a 30 frame rate che anche a 60 frame rate una volta che vi ho caricato in pratica il video sul canale youtube che cosa ne fa riprende di nuovo quel video e ritorna a riendirizzarlo per la seconda volta e quindi ne abbassa semplicemente la qualità quindi non sono io che la qualità non la so vedere oppure magari edito il video così come esce ve lo carico no io prima di caricarvi un video specialmente se non mi piace a me ritorno io sul mio pc con il programma di editing ritorno a riendirizzarlo finquanto non esce proprio un video ottimale sia per la vista che anche per l'audio quindi io non vado a caricare un video che non esce bene come detto ribadisco youtube ne abbassa la qualità se non mi credete andate su su google scrivete perché youtube ne abbassa la qualità e vedrete che anche voi stessi cercherete quanto meno di capire perché youtube fa questa cosa quindi vi chiedo semplicemente ragazzi cercate di aiutare il canale se veramente i miei video vi garbano come detto tutte quante le domande che vi ho fatto scrivete qui sotto qui nei commenti con un voto o sì o no oppure con un voto da 1 a 10 di tutte quante le domande che vi ho fatto in questo video ragazzi veramente vi chiedo il massimo supporto sul canale perché a me piace fare video piace fare un determinato titolo ok che comunque sia al giorno d'oggi su youtube come detto prima ci stanno molti youtubers che hanno aperto il loro canale molto prima di me e quindi io sono diciamo alle prime armi alla prima scaletta per poter arrivare in cima alla montagna non dico che voglio arrivare in cima alla montagna subito adesso in 4 e 4 8 no questo purtroppo non è possibile non è possibile per il semplice fatto che se non siete voi a contribuire anche il canale ed fa e far aumentare quel determinato canale sia di iscritti di like e di condivisioni e di visual e chi più ne ha più ne metta purtroppo io non ci posso fare nulla perché perché il mio lavoro finisceva poi ovviamente sarete voi a continuare il vostro lavoro di lasciare like di visualizzare il video e di condividere il video con i vostri amici i vostri parenti i vostri cani i vostri gatti del vicino e chi più ne ha più ne metta o magari anche il macellaio sto cercando soltanto un minimo particolare di aiuto da parte vostra comunque sia i vari tipi di titoli che sto portando lo so che lo stanno giocando in tantissimi sia snow runner farming 17 farming 19 gta 5 e chi più ne ha più ne metta però comunque sia per come la vedo io io il mio titolo me lo gioco come più mi garba gli altri giocano come più di garba loro ok che voi comunque sia siete più attratti da canali che hanno miliardi di iscritti miliardi di visual miliardi di like miliardi di commenti e chi più ne ha più ne metta e quindi lasciate morire in pratica un canale che ha pochi iscritti pochi visual pochi like pochi commenti e poche condivisioni cioè secondo me per qualche mi riguarda non è una cosa giusta fare che si fa morire un piccolo canale che ha appena iniziato secondo me il piccolo canale che ha iniziato secondo me si deve dare una mano per poterlo fare iniziare a crescere per poter iniziare a espandere i suoi video con commenti like condivisioni e visual io di tutto questo all'inizio purtroppo non sapevo nulla perché perché avendo purtroppo una postazione da gaming che non soddisfava i miei requisiti minimi e massimi di registrazione di video e quant'altro purtroppo non sono mai riuscito a fare una cosa del genere ancora prima del 2020 se ho iniziato ancora prima con il vecchio canale e adesso con il secondo sto capendo che man mano che si va avanti si può cercare di fare qualche cosa in più lo so che purtroppo il mondo del web di youtube sta andando per il semplice fatto che adesso ci sta twitch per le live ci sta twitter per le condivisioni ci sta facebook ci sta instagram diciamo che youtube purtroppo sta morendo già lui di per sé e quindi è normale che nessun tipo di video viene visualizzato viene lasciato like e quant'altro e quindi un piccolo canale si lascia morire così io sinceramente il mio canale non lo voglio lasciar morire e voglio continuare a portarvi video a portarvi titoli e chi più ne ha più ne metta quindi ragazzi gentilmente davvero non sto scherzando vi chiedo veramente una mano se mi darete una mano vi considererò veramente dei grandissimi ragazzi in gamba davvero senza scherzi senza nulla quindi questo video prendetelo in considerazione fatelo girare lasciate like a più non a più non posso e condividete questo video detto questo io mi fermo qui e da the official video games è tutto noi ci si becca in un prossimo video ciao ragazzi ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.